Antonio Brighi non è andata nel migliore dei modi? No, non è andata benissimo, fino a metà partita siamo stati lì, però alla fine abbiamo un po' mollato e subito la loro fisicità, però potevamo fare meglio, potevamo anche portarla a casa questa. La squadra è giovane, ma perché non esce quella cattiveria che caccia negli allenamenti? Sì, appunto perché è giovane, ci manca questa cattiveria a tutti, a parte qualche persona che è più abituata, non siamo proprio abituati a star lì per 40 minuti, dobbiamo migliorare in quello secondo me. Perché tutto sommato il Benavro era a più due punti da voi, però perché è riuscito a cacciare più cattiveria? Più cattiveria perché noi abbiamo avuto anche un po' di sfortuna in certe situazioni e loro hanno messo anche dei tiri difficili, quindi leva una cosa, metti in un'altra, sono arrivati su, però alla cattiveria appunto ci manca. Adesso bisogna solo buttare a questa stremata salvezza? Sì, adesso noi giochiamo ancora per vincere perché non ci sentiamo salvi e cerchiamo di fare il risultato sia in casa che in trasferta. Visita poter andare a Francavilla tranquilli? Sì, quello sarebbe l'obiettivo, poi comunque anche andare là e batterli per la soddisfazione di dire che noi meritiamo di stare qua.